E' bello a tutti ragazzi in questo nuovissimo video la nostra storia ricontinua su bluestars scusatemi se ho perso un po' di tempo dall'altra storia però è un altro viaggio se non l'avete visto andatelo a vedere e volevo Ho scritto che adesso ne mancano 15 non più 16 per me è una gioia grande perché spero che ho strappato i sorrisi e continuo a strappare i sorrisi E' emozione a tutti e con tutti i miei difetti e spero di continuare come ho detto a strappare i sorrisi Beh prima di cominciare ho detto ciò che cosa devo dire adesso continuiamo con il fantastico che si è portato a 4805 trofei beh 200 trofei in tutto mancano ovvero se vogliamo calcolare bene mancherebbero 200 trofei 900 500 300 900 è l'oro e penso non ne so sì 900 500 4905 800 800 sì sono 200 trofei va c'è un 200 per quello poi 195 trofei oggi vorrei un po' giocare con voi intanto voglio far vedere tutti i miei personaggi a che dove siamo arrivati ad ecco qua la fine solo 3 da migliorare i mancati l'occhi franke 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 intanto abbiamo questa richiesta l'andiamo ad accettare e andiamo a mettere franke 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 infatti vi ricordo che a 30 iscritti volevo fare quello speciale appunto su«browns Io vi avviso già di sottoscrivervi, attivare la campanella e così rimaneremo in ragione. E poi metterò i limiti di 30 secondi di video. Inizieremo già a mettere un limite di like, per esempio per questo video, tot like. Cosmoida non vi chiede ancora niente perchè non siamo ancora in quale. Mancano 5 di voi e cominceremo a fare già un poco più tardi. Nooo, dovevo killarlo voi. Beh questo è mio fratello, non è che sa giocare molto, granché? Sei chillata, 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 teo, chillata. Non puoi dire niente? Oh, però c'è una volta di... Il terzo posto, buono. Anche nuovo, bella. Decimo grado, bibi, decimo grado. Bella. No, dobbiamo uscire per forza, va. Eeeh... Cosa dico? Esco... ...quadra solo per un... Giocando singolamente. Giocando... Quindi non so se avete capito. Singolamente giocando. Quindi... Adesso non abbiamo più da affrontare. Un quinto, quarto e terzo posto. Ma abbiamo da affrontare decimo, nono, ottavo, settimo e sesto posto. Quindi dobbiamo stare ben attenti. E quindi... Devi fare tu attenzione ad spingere contro noi. Mi tocco un attimo. Manteniamo un attimo. Oh, 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 oh. Qui? Ok, non c'è nessuno. Ok, non c'è nessuno. Ok, non c'è nessuno. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo qua. Facciamo Ottis qua. Eh, come se non ci fosse questa volta. Nooo... 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 Io non ci credo. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Se non c'erano molti, se avrei preso quelle... Quelle due power up, sarebbero state molto meglio. Di due... Di tre. Avremmo fatto cinque power up. Poi dopo, in un secondo momento, sarebbe venuta lei... Eh... L'avrei uccisa. Perché la bolla, veramente... Se tu non la comandi... Il gioco te la mette doveva andare. Io la potrei andare avanti. E lei... Per decidere. Andavanti. Però era anche giusto. È meglio levare rosa che... Che rosa fai in ammattia. In cui... Se non lo porti a livello 10, c'è sempre poca vita. È sempre scarso. Normalmente a livello 1 leva 990. Adesso l'ho potenziato, mi sembra, a livello 2... E' già 40 unitane. 1045. No... No... A livello 3. Perché ieri l'ho potenziato a livello 2. Solo che le aveva 945. Allora andai nel negozio, scioppai le carte... E la potenziato a livello 3. E così... L'aveva 1035. Se non sbaglio. Dopo vediamo. Io... Mi metto qua un attimo. Perché... Quando provi power up non vado a luttare. E poi... Appunto. Dopo che qua chi trovi contro... È dopo che solo ho potuto. Ovviamente non male. Ok. Siamo a 3 di noi. E adesso... Possono anche uscire. Ormai la vittoria in mani ce l'abbiamo. E' ancora poi il secondo posto di 3. Vedete? Contra questo qua difficile. Ah, fortissima. Come fa il suo avvencio? Fortissima. Ci impegniamo a fare un po' di power up? Questo si. Bene! Forse oggi riusciamo a fare anche... Non so. Riusciamo a fare... il grado ma ci mancano ancora tante 5 intanto qua devo arrivare al grado 100 e sblocco questa e poi a livello vabbè livello grado è sbloccato la corona 80 e dei miei trofei devo sbloccare questa 5 mila ovviamente abbiamo 7 mila 100 mila e 13 mila ma questo gioco potrebbe essere prolungato a una cifra è finita ovvero che non finisce mai qua arriva a 14 mila però potrebbe arrivare a un milione sarebbe pazzesco vabbè poi abbiamo i personaggi potrebbero aggiungere 45 in una solo botta sarebbe fantastico bello poi in una cassa e ne trovi uno poi ne va in un'altra sarebbe molto bello il gioco così ovvero apri una cassa ne trovi uno poi aspetti solo altre due casse e ne trovi un altro brawler poi una cosa fondamentale che voglio avvisare perché non ha visto guardate qui sul bombardino lo vedete questo sta arrivando un altro bombardino e questo è l'unico che ha un due tre quattro cinque facciamo il conto uno due tre quattro cinque a cinque skin è l'unico personaggio che cinque skin però se leviamo la prima a quattro e la prima non vale poi stanno i normali così e poi addirittura stanno persone che non hanno skin ecco però quando c'è il punto interrogativo prima o poi sempre di verano si aspettate però se andiamo a vedere bene si sono finiti punti interrogativi però ne potrebbero aggiungere anche altre cioè significa che non ne aggiungono più di persone beh poi per vede continuiamo un poco nella nostra storia facciamo sempre singolo però questa volta ci impegniamo un po meglio vediamo un altro po siamo andati bene 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 prima nelle partite di prima ho aperto cinque casse 5 power up sono venuti due contro a me l'ho ucciso tutti e due ne ho prese 7 power up sono ucciso ho fatto altri due kg sono arrivate 10 power up comunque era indistruttibile sono arrivato prima abbiamo 10 power up c'è un colpo al baule e sapere attenzione gx ferro gx ferro ci vuole morto ma attenzione che forse muore oh manco lo uccide mamma mia odio queste scocce pide o domandate veda guarda 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 che fa gx ferro che nome per poco non mi prendevo la vittoria ancora non c'è no no mamma mia mamma mia mamma mia il veleno doveva stare un po più vicino l'avevo ucciso sapevo che avrebbe fatto questo vabbè adesso vince pure attenzione o però raga sei meglio 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 di meno zero è meglio di meno 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 però adesso mi sono incavolato e quindi sì perché meglio avere una così che una bibbia vabbè diciamo che meglio in questo caso se io non miro sapevi il computer 2000 bastardo bastardo oh come me non c'è venuto a prendere la nostra power up mi sembra che tutto non mi ricordo bene mamma mia piper colpisce ancora con calma ben di sta ti sta bene ma adesso si prendono appalati volete vedere vediamoci in mezzo no va bene continuiamo noi qui dentro c'è nessuno anche se un po' pericoloso mi non manca che non c'è nessuno qui ho paura no nessuno oh vabbè abbiamo controllato pure qua stecca 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 kill mia mia kill oh 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 abbiamo contro un oh no se ci viene qua bye bye oh no no devo volare un po più lontano vabbè secondo posto ce lo meritiamo vabbè cosa dire raga finiamo un poco qui ho fatto questa piccola cosa poi aspettate oh bello vabbè scrivetevi attivate la campanella commentate lasciate like non vi chiedo nessun massimo like per sempre 50 comunque a 30 iscritti ricordatevi speciale qui ciao ciao alla prossima ragazzi